ogni malattia nel corpo vibra ad una certa frequenza che può essere misurata come credeva il famoso nikola tesla è ben documentato che tesla non consultò mai un medico poiché poteva curarsi da solo per qualsiasi malattia questi semplici dispositivi elettrici erano in grado di uccidere batteri e parassiti patogeni generando onde di energia elettromagnetica a bassa frequenza che penetravano nel corpo e colpivano i batteri e i parassiti che causavano malattie nel corpo stesso lo stesso tesla la chiamò terapia elettromagnetica perché ora non esistono più tali dispositivi perché sanno che rovinerà i loro affari darà le persone più libertà e non ne hanno assolutamente bisogno grazie a tutti grazie a tutti